installa comando diversi punti sul pannello verniciatura del pannello principale per indicare un punto di coordinate che si possono vedere nella parte inferiore della finestra con le coordinate punta del disegno premere il tasto sinistro del mouse per posizionare il punto è possibile alla riga di comando immettere i valori numerici indicano le coordinate di x in y e z virgola separati premere il tasto invio per mettere la corrente attivare il comando orbita del menu ruota per tracciare questi punti selezionare il pulsante sinistro del mouse tasto destro del mouse per causare il menu a discesa e attivare il comando proprietà la geometria del menu sarà le coordinate di punti cioè la posizione in x y z il a 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 Grazie.